E' il Vescovo di Arezzo Riccardo Fontana ad informare tutti che ha appena effettuato la terza dose di vaccino anti-covid ed esorta gli aretini a vaccinarsi, così nella sua ultima conferenza stampa prima del Santo Natale. Io raccolgo quello che il Papa va ripetendo chiedendo obbedienza a usare le forme di prevenzione che sono un atto di carità. Fare in modo da frenare la diffusione del virus è un grande atto di carità. Siamo nel periodo di Natale, è un momento di festa per le famiglie, lei però ha parlato anche delle difficoltà nel mondo del lavoro e del lavoro che sta svolgendo Caritas. Sì, c'è bisogno sicuramente di farsi carico di storie complicate, anche stamattina ho ricevuto varie persone con problemi. Se tu hai un figliolo di 30 anni e non ha il coraggio di mettere su famiglia, si rischia di fare dei pasticci grossi come una montagna, però naturalmente nessuno dice questo, fa notizia di andare in giro a fare gli scemi per l'Europa, ma poca notizia l'idea che ad Arezzo ci sarebbero le risorse per produrre lavoro. Ora non voglio scendere nei dettagli perché non è il ruolo del Vescovo, anche se ovviamente le mie idee ce le ho molto chiare. Qual è il messaggio che vuole dare per questo Natale? Confessatevi, comunicatevi e fate pace con quelli con cui avete reticato. Questo è il messaggio che io voglio ripetere a tutti con una carezza però, con molta simpatia verso la mia gente. Questo è anche un periodo nel quale la Chiesa è a sinodo, lei ha annunciato anche una notizia per il 15 di febbraio, giorno della Madonna del Conforto. Sì, è una scelta che abbiamo fatto insieme al Cardinale Grek, che è opportuno che anche il grande sinodo, quello mondiale, abbia voce in terra d'Arezzo e non c'era giorno più adatto che il giorno della Madonna. Grazie.